Inquinamento, lotte, messaggi vocali da cinque minuti. Scatenerò su di voi un diluvio universale. Tu costruirai un'arca e a bordo farai salire due animali di ogni specie. Tito, tito, sveglia, ci spazzerà via tutti. Tranne un maschio e una femmina, quindi uno di noi è spacciato. E come entreranno? Avanti, toglietevi dai piedi. Gli elefanti faranno la cacca e mi assicura che non si mangeranno a vicenda. Siamo stati invitati al più grande ristorante Oliukenit del pianeta. Fidati di me, Tito. Ho in mente un piano. E il mio? Fa schifo. Sei pronto a cantare? Finalmente è arrivato il mio momento. Una gara di canto! Lui rugisce un salto, fa, e attacca senza pietà. Leone, leone, del mondo è lui il padrone. Leo, leone... Leone, leone, del mondo è lui il padrone. Ma che cos'è? Leo, leone, del mondo è lui il padrone. Come vi è sembrato? Non ha senso del ritmo? Tito e Vinni a tutto ritmo, dall'11 aprile al cinema. Mi raccomando, vi aspettiamo al cinema! Radio Italia, radio ufficiale.